Guardate, aggiungo solo una consigliazione, abbiate pazienza, non è questione di volontà, ma non abbiamo... Se mi fa parlare... Fusani, se vuole venire a spiegarlo a lei... Io stavo parlando, stavo cercando di spiegare qualcosa, di dire qualcosa in più. Allora, ci siamo, come sapete, questa mattina, tutti i ministri, con tutti i ministri, siamo riuniti. Non era formalmente un consiglio dei ministri, siamo riuniti tutti però per valutare un aggiornamento sulla emergenza sanitaria e ho richiesto, d'accordo ovviamente con il ministro Speranza, anche la presenza del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Brusaferro. Il professor Brusaferro ovviamente ci ha aiutato, insieme al ministro Speranza, che è diventato anche lui esperto perché in questa materia ormai è tutti i giorni che ci sta lavorando, ci ha aiutato un attimo a valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento della diffusione del contagio e ci ha fornito tutta una serie di valutazioni tecniche. Ci sono servite, io ero stato ieri, sono stato cinque ore in protezione civile con il ministro Speranza, però è servito anche a tutti gli altri ministri per avere un aggiornamento a tutto campo, a 360 gradi sulla situazione emergenziale. Dopodiché vi anticipo in modo molto trasparente, perché noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola di azione, verità e trasparenza. Un'ampia parte della conversazione, dello scambio informativo è stato dedicato al capito delle scuole e delle università. Quindi abbiamo fatto un'ampia valutazione, avvalendoci dell'ausilio tecnico e dell'esperto del professor Brusaferro. Abbiamo fatto varie valutazioni, l'orientamento del Consiglio dei ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Però ci siamo anche detti, e l'ho chiarito a tutti, eravamo tutti consapevoli, attenzione però. Su questo, alla luce dello scambio informativo che c'è stato, demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi col comitato tecnico-scientifico per un approfondimento specifico sul punto delle scuole, sospensione delle attività didattiche in vista della crisi epidemiologica in corso.